Puntata particolare quella andata in onda ieri sera di Agorà, si badi bene la solita Agorà, quella cioè che si occupa di Gela, dei Gelesi e delle tematiche attuali che interessano la nostra città, con la vertenza Gela in primissimo piano ad esempio, ma stavolta con uno sguardo particolare, ossia quello dell'altra metà del cielo della politica gelese, ovvero quello di chi la politica la fa continuando contemporaneamente a fare la mamma, la casalinga, la moglie e la professionista, la donna insomma, al centro del rotocalco settimanale di Canale 10, donne impegnate a dare un contributo alla soluzione dei tanti problemi creati dagli uomini, dai maschi che in politica hanno fatto tanti di quei guasti in questi ultimi 25 anni che a ripararli chissà quanto tempo ci vorrà e allora laddove in questa martoriata città ha fallito quello che una volta veniva definito il sesso forte, che ha svenduto al miglior offerente Gela facendone sfregiare in maniera forse irreparabile il suo naturale volto bello magari perché non far provare a loro, alle donne appunto, a trovare i giusti rimedi. Ieri sera così il salotto televisivo di Agora, che solitamente affollato di presenze maschili, è stato ingentilito dalla partecipazione di quattro donne impegnate in politica. Chi come assessore, nel caso di Licia Abela, responsabile del settore pubblica istruzione e servizi sociali del comune di Gela e chi invece come consigliere comunale. Ed in questo caso sono state ospiti di Agora, Sandra Bennici, in rappresentanza del polo civico, Francesca Caruso, di Reset 4.0 e Sara Bonura del movimento Il Megafono. A completare la rosa degli ospiti della puntata di Agora andate non da ieri sera, anche il vice sindaco Simone Siciliano, che ha aggiornato i telespettatori di Agora sull'importante incontro avvenuto al Mise di Roma appena il giorno precedente e che è stato propedeutico del più importante tavolo di trattativa in programma mercoledì prossimo, sempre nella capitale romana e nel corso del quale molto probabilmente si definiranno le linee guida del futuro economico e sociale di Gela. Ed infine è presente anche l'assessore al bilancio e affari legali Fabrizio Morello. Chi volesse rivedere questa elegante e oltre che interessante puntata di Agora potrà farlo grazie alla replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata per parlare come sempre di Gela e dei Gelesi.